Investire 100 euro al mese ogni mese in maniera costante ha senso? Ti anticipo che se il tuo obiettivo è quello di crescere a livello economico, di fare soldi, sei giovane ed ambizioso, investire 100 euro al mese non ti porterà da nessuna parte. Nonostante tantissimi influencer e guru della finanza ti consigliano di investire in ETF anche una piccola quantità ogni mese, nelle obbligazioni, in strumenti finanziari molto stabili, in realtà questa scelta non è sempre quella giusta. Ultimamente spesso sento dire di tante persone in Italia che decidono di investire 100, 150, 200 euro al mese ogni mese in fondi. Adesso questa scelta può essere sia giusta che sbagliata, dipende quali sono i vostri obiettivi. Quindi parte numero uno del video di oggi è parlare proprio degli obiettivi, qual è il vostro obiettivo? Se siete delle persone già cosiddette sistemate, quindi vi piace il lavoro che avete, siete soddisfatti della città dove vivete, vedete che nei prossimi 5-10 anni non ci saranno grossi cambiamenti nella vostra vita. Quindi come anche dice il professore Coletti nel suo corso di finanza, voi prevedete che nei prossimi anni avrete una vita abbastanza stabile. In quel caso lì gli strumenti finanziari come ETF, obbligazioni e investire in fondi può avere un senso. Il problema è che tantissimi di voi che mi raccontano che fate questo tipo di investimenti, sono persone estremamente giovani, neolaureati, con qualche anno di esperienza, che hanno come obiettivo quello di fare soldi, di costruire, di mettersi da parte nel conto corrente 20, 30, 50, 100 mila euro, di fare proprio la ciccia, di fare i soldi, di avere il potere economico di fare un down payment e comprarsi un appartamento, cioè proprio di fare denaro, di produrre denaro. Adesso mettendo da parte 100-200 euro al mese comunque producete denaro. Per fare un esempio pratico mettiamoci nel caso di una persona che decide di investire 100 euro al mese, in un anno solo 1200 euro. Adesso se il titolo che andate ad acquistare è veramente un campione, andate a fare il 10% lordo anno. Quindi di 1200 euro che avete messo da parte, al massimo proprio se il vostro fondo di investimento è un campione, riuscirete a guadagnare il 10%, quindi 120 euro. Adesso in 10 anni, mettendo da parte 1200 euro all'anno, con tutti gli interessi e tutte quelle cose bellissime che possono accadere, in 10 anni massimo avrete da parte 15.000 euro. Adesso con 15.000 euro vi assicuro che non acquistate nemmeno una macchina. Adesso capite che in 10 anni fate il sacrificio di 100 euro al mese, pensate di stare facendo la cosa giusta, in realtà dopo 10 anni vi trovate con circa 14-15.000 euro da parte, che non sono una quantità di denaro rilevante. Chi vi consiglia questo tipo di investimenti? Sono persone che magari ogni mese investono 5-10.000 euro al mese in quel tipo di investimento lì. Io vi assicuro che iniziare a vedere un piccolo ritorno di investimento su questo tipo di strumenti finanziari, sui fondi, sugli ETF, sul mercato azionario, iniziate a dare un minimo senso a questo tipo di investimenti qui quando siete investiti sopra i 100.000 euro almeno. Perché per queste piccole cifre parliamo che l'interesse che è riuscita in generale è irrisorio, è il nulla. Se il mercato quell'anno va bene e fa il 5%, cioè voi in un anno avete generato 60 euro di interessi lordi che sono una sciocchezza, una cavolata. Specialmente per persone estremamente giovani che vogliono costruire. Poi se questo ragionamento qui lo fa una persona che già si trova bene, ve l'ho detto nelle premesse, che pensa di vivere nello stesso posto per tutta la vita, ha già un lavoro che lo soddisfa, ok, tutti quei soldi lì sono un chicco di riso in più per vivere meglio, per facilitare la vita. Ma per un giovane che senso ha che vi togliete dallo stipendio 100 euro al mese con un stipendio basso, magari un costo della vita elevato? Fate questi grandi sacrifici per cosa? Per avere 1200 euro da parte in un anno che non potete comprare nemmeno un iPhone, nemmeno un telefono. Quindi nel video di oggi vi dico, secondo me, qual è la mia soluzione per chi riesce a mettere da parte e investire solo 100 euro al mese. Ovviamente non sono un consulente finanziario, questa è semplicemente la mia personale opinione basata sui miei anni di esperienza e sul mio network. Se siete nella condizione in cui effettivamente potete investire solo 100 euro al mese, questo vuol dire che non siete in una buona condizione economica. Vuol dire che il divario fra i soldi che è guadagnato ogni mese e che ogni mese spendete è troppo basso. Ad esempio voi guadagnate 1500 euro al mese e tra affitto per vivere e tutto ne spendete 1400. Questo vuol dire che o il vostro stipendio è troppo basso o spendete troppi soldi ogni mese. Quando io mi trovavo nella condizione a Milano che quando ero veramente un campione riuscivo a mettere da parte 200 euro al mese, fortunatamente in quel caso lì ho preso quei soldi e a posto di investirli li ho messi da parte sul conto corrente perché sapevo che da lì a poco la mia vita sarebbe cambiata e come vi ho spiegato quando ci sono dei cambiamenti nella vostra vita come esempio vi volete trasferire o volete avviare una vostra attività, la prima cosa necessaria sono i soldi. In maniera pratica vi dico cosa farei se fossi un giovane che riesce a investire solo 100 euro al mese. Per prima cosa consiglierei di mettere questi 100 euro intanto da parte sul conto corrente, tenere liquidità perché comunque è una quantità di denaro veramente bassa e iniziare a investire nel migliorare le proprie competenze, nel cercare di brillare al lavoro, nel diventare l'esperto di quello che state facendo. Ad esempio io la prima cosa che feci quando mi trovavo a Milano e facevo il planning engineer, di mia spontanea volontà iniziai a farmi dei corsi di pianificazione che trovavo su Udemy, che trovavo online, trovavo tizi su YouTube che parlavano di pianificazione perché avevo capito che se nel mondo delle costruzioni volevo brillare come planner, come pianificatore, mi volevo fare notare dai project manager, dai project director, dovevo essere il migliore di quello che facevo. Quindi investite in voi stessi, investite nella formazione. E vi dico ad oggi la formazione è praticamente quasi tutta gratuita, quindi mettetevi i soldi da parte e cercate di diventare i massimi esperti del settore dove lavorate. Punto numero due, a posto di pensare a come spendere meno soldi, dovete pensare a trovare un lavoro che vi paghi di più, un lavoro che vi dia soldi ogni mese veri. Se vi trovate in un contesto in cui magari avete una laurea, avete anche qualche nuova esperienza e ancora siete pagati 1.400, 1.500, 1.600 euro al mese, questi sono soldi bassissimi per un professionista, sono soldi che un domani se volete sposarvi, volete fare figli, volete avere anche un cane, non potete mantenerlo, non potete comprarvi una macchina, non potete comprarvi nulla. Se siete nella condizione che guadagnate 1.500, 1.600 euro al mese, nonostante il vostro capo vi voglia bene, al lavoro avete il team, vi volete tutti bene, l'azienda rispecchia i vostri valori, vi dovete licenziare, vi dovete trovare un altro lavoro, perché con 1.500, 1.600 euro al mese siete dei morti di fame. In quel contesto lì in cui si guadagna così poco, non bisogna dormire, proprio ogni giorno su LinkedIn a mandare curriculum, 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 mettetevi proprio fissi che dovete guadagnare, cioè dovete fare soldi, specialmente siete giovani, perché se non fate soldi, non riuscite a mettere soldi a parte e non riuscite a investire. Dopodiché cercate di mettere una quantità di denaro da parte corposa, io vedo gente che ha in banca 2.000 euro e che già inizia a investire 100 euro al mese, ma che senso ha, che senso ha fare queste cose qui? Quando voi decidete di trasferirvi dalla Sicilia ad esempio, quindi dal sud Italia a Milano, o da Milano ad esempio in un'altra città, o volete andare all'estero, la prima cosa necessaria sono i soldi, perché quando voi vi dovete trasferire in una nuova città, dovete prendere una nuova casa in affitto, dovete dare il down payment, dovete dare i mesi di caparra, dovete pagarvi i voli, in questo momento dovete anche non leggervi una macchina, dovete fronteggiare delle spese, quindi un trasferimento, io ve l'ho detto quanto ho speso per venire a vivere in Danimarca, il primo mese in Danimarca ho speso quasi 10.000 euro, tra trovare la casa, tra pagare i voli, tra pagare gli spostamenti, ci vogliono soldi liquidi, perché dice che non vuole tenere i soldi sul conto corrente perché c'è l'inflazione, se avete 2-3.000 euro sul conto corrente, l'inflazione non vi riguarda, perché l'inflazione è una percentuale bassissima di perdita di potere d'acquisto, ma se avete 3.000 euro, l'inflazione non è un problema che voi dovete guardare al popetto, ragazzi, oh, mi dispiace che con questi video sono sempre diretto, sempre schietto, a volte pubblico i video e praticamente molto spesso perdo iscritti invece di guadagnarli, perché purtroppo questa è la verità, a posto di farvi prendere in giro del fatto che investendo in ETF, riuscite a mettere soldi da parte, è vero che gli ETF sono un ottimo strumento finanziario per il lungo termine, ma se non avete soldi da mettere negli ETF, se non avete soldi da mettere negli investimenti, come fate? Prima cosa, bisogna migliorare le skills e trovare un lavoro che vi paghi adeguatamente, dopodiché quando avete un lavoro che vi paghi adeguatamente, avete soldi messi da parte, quindi la sera quando andate a dormire siete belli tranquilli e dite, anche se il mio datore di lavoro mi dovesse licenziare per 6 mesi, per un anno, posso comunque continuare a pagare l'affitto, sono così tranquillo, in quel caso lì, raggiunto un buon lavoro, una massa critica di denaro sul conto corrente, iniziate a esplorare il mondo degli investimenti e lì chi sarà magari più portato a rischio, inizierà a farsi i conti per aprire una partita IVA, per iniziare a fare il libro professionista, per iniziare un'attività imprenditoriale, chi sarà meno avverso a rischio, magari effettivamente a quel punto lì inizierà a investire in fondi, in azioni, il fondo risparmio, inizierà a mettere soldi da parte, ma ogni mese mi va a mettere sul fondo risparmio 500, 1000 euro, non 100 euro al mese. Ciò che voi riuscireste a fare in 10 anni di risparmio di 100 euro al mese, quindi questi fantastici 12.000 euro, che sono 10 anni di risparmio, se vi mettete nella condizione in cui andate a guadagnare uno stipendo da 4-5.000 a 6.000 euro al mese, banalmente andando all'estero, andando in Svizzera ad esempio, andando in Danimarca, andando in Stati dove pagano di più, 12.000 euro li mettete da parte in 6 mesi, in un anno, non in 10 anni dei vostri risparmi e dei vostri sacrifici. Bisogna che aprite gli occhi, specialmente i più giovani, perché ho tante gente che mi dice se io sono ambizioso, voglio fare, voglio migliorare, voglio trasferirmi, voglio fare soldi, e cosa fate? Cosa fate? La sera vi mettete a guardare i film e investite i 100 euro nel fondo, e ogni giorno guardate il fondo, ah ho guadagnato un euro questa settimana, ma che senso ha? Se siete ambiziosi, vi mettete sul computer, su quel cavolo di computer che avete, o sul telefono, diventate degli esperti di un settore, vi mettete proprio lì a studiare linguaggi di programmazione, a studiare pianificazione, a studiare quello che vi riguarda? Quando capite come funziona quella cosa lì, su LinkedIn, boom, cercate un'azienda che vi assume e che vi paghi per quanto valete, proprio cercate su Google quali sono i lavori più pagati, se tra i lavori più pagati vedete che c'è qualcosa che voi potete fare, il programmatore, il project manager, cercate la vostra opportunità, non lasciate che siano gli altri a dirvi quello che dovete fare, siete voi i vostri soldi, e non fate sacrifici in mani che magari non vi andate a mangiare la pizza per risparmiare i 100 euro da mettere sul fondo, che a fine anno vi generano 100 euro di interessi. Spiegatemi, uno di 26-27 anni cosa deve fare con 100 euro di interessi? Io vi sto dicendo tutta la verità con questi video, non abbiate paura perché purtroppo il mondo esterno è così, cioè se non avete il grano sul conto corrente, non avete nemmeno la libertà mentale di scegliere, di trasferirvi, di cambiare lavoro, poi in aggiunta a tutto ciò, e ve ne ho parlato già in altri video, tanta gente, assimono stipendio basso, si decide di rifare i risparmi, i sacrifici, e in più gli aggiunge quel bellissimo mutuo di 30 anni per comprarsi il fantastico bilocale a Milano, e lì hanno finito, cioè lì praticamente per tutta la vita pagherete debiti ragazzi, cercate, specialmente i più giovani che vedono questo canale, di sfruttare le opportunità che la carriera e che la vita vi offre. Non restate lì a dormire pensando che un domani grazie ai 100 euro messi da parte diventerete ricchi e cose del genere, perché non è così. Vi chiedo di fare solo una cosa, iscrivetevi al canale, ogni giorno ore 12 un nuovo video, basta andare lì in basso, cliccare iscrivete al canale, è il gesto totalmente gratuito, ma che mi motiva un sacco a creare altri contenuti come questo. Per chi volesse, in descrizione trovate anche il link del canale Telegram. Come ho detto all'inizio, non sono un consulente finanziario, questi non erano consigli finanziari, era semplicemente il mio parere personale. Grazie a tutti quelli che hanno visto questo video, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.